ripensare i porti marchigiani non solo pesca e cantieristica ma una visione che apre al turismo e all'accoglienza è questo il tema del progetto framesport nell'ambito dell'interreg italia croazia finanziato dai fondi europei di sviluppo regionale i porti marchigiani ma anche quelli adriatici valutati come luoghi di accesso e di esperienza per coloro che attraccano e desiderano utilizzarne i servizi dalla ristorazione alle escursioni al pernottamento offerti in ambito portuale e nel territorio circostante di questo si è parlato alla palazzina azzurra di san belletto in un'iniziativa della sven marche in questo è il secondo incontro territoriale organizzato da sven per presentare la risultanza del progetto strategico per lo sviluppo della portualità turistica nei porti marchigiani è un progetto interessante svem segue le linee guida date dalla regione affinché ci siano sempre nuove occasioni di sviluppo socio economico nel territorio marchigiano pesca è in difficoltà nell'adriatico questo potrebbe essere un modo anche per rilanciare il settore in un altro ambito assolutamente sì anche se nel porto di san metto il tronto è abbastanza specifico nel come commerciale e appunto questo progetto tende ad aiutarlo a portarlo nel turistico a svolgere azioni importanti nel turistico le marche presentano una elevata possibilità di espansione solo una minima quota di chi attracca nei porti marchigiani proviene da fuori regione un dato molto al di sotto delle media che si registra nel resto dell'adriatico vincenzo carofalo presidente dell'autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale fa presente comunque l'alto livello dei servizi offerti in ogni porto del nostro sistema c'è come minimo un'azienda che anche più di una ovviamente che eserce un'attività o di ristrutturazione manutenzione straordinaria o costruzione quindi il nostro sistema direi che in italia è uno dei più come dire accoglienti rispetto a queste attività a queste attività quindi si collegano facilmente anche quelle della portualità turistica che non sempre sono strettamente collegate ai nostri porti ma in ogni porto noi abbiamo anche peraltro abbiamo la più grossa d'arsena dell'adriatico che è la marina torica dancona quindi ogni ogni porto accoglie sia manutenzione straordinarie e risotturazioni e costruzioni ma anche ospitalità come questo può contribuire all'economia marchigiana contribuisce già in maniera rilevante dal punto di vista della manifattura e quindi delle maestranze e delle competenze che sono sempre più qualificate e poi ovviamente contribuisce e dovrà contribuire ancora di più sull'intero comparto turistico e quindi su quello io credo che questo progetto possa essere sicuramente un grande punto di collegamento per tutto il sistema portuale marchigiano e non solo San Benedetto così come altre città portuali marchigiane si candida un ruolo importante in questo contesto. Diciamo che il comune di San Benedetto potrebbe essere un porto strategico anche per il turismo non ci dimentichiamo che abbiamo già un'area portuale dedicata appunto alla diciamo alle barche turistiche c'è in procinto appunto di sviluppare ancora di più questa questa possibilità per cercare di portare a San Benedetto quelle opportunità economiche che solo magari un porto turistico può attrarre Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di importanti Università Venete durante l'incontro al quale erano presenti molti portatori di interesse hanno relazionato il professor Paolo De Martino dello Juve di Venezia e il professor Alessandro Bove dell'Università di Padova Io penso che la parte turistica soprattutto per le bellezze nazionali che abbiamo sia uno degli elementi centrali noi non abbiamo nulla che invidiare con le coste croate che sono i nostri altri partner ma abbiamo sicuramente una portualità che è molto più attrezzata soprattutto dal punto di vista turistico i dati ci confortano in questo senso nel senso che le nostre marine sono comunque dotate di servizi e quindi sono atte ad ospitare il turista, atte a offrirgli un'ospitalità che va al di là del fatto di parcheggiare la barca e scendere all'interno della città ma all'interno delle nostre marine è possibile trovare servizi il ristorante, i servizi di rimessaggio per le barche, di sistemazione delle stesse ma anche le connessioni con il territorio quindi una marina come interfaccia tra la terra e il mare uno dei piloni di quello che è il progetto è la creazione di un portale all'interno del quale sono state raccolte tutta una serie di informazioni ci sono informazioni riguardanti la portualità e quindi un censimento di quelli che sono i porti dell'Adriatico con tutte le loro caratteristiche vengono raccolte le best practice quindi tutte le attività che vengono svolte per incentivare, migliorare quella che è la vita all'interno di quelli che sono i piccoli porti dell'Adriatico vengono raccolti i progetti pilota che ogni partner ha prodotto in questo senso qui questo costituisce una base, un punto di partenza grazie a tutti grazie a tutti